Sono passati alcuni mesi da quando il Comitato Stop Puzzo ad Arezzo si è mosso con le istituzioni a retine per risolvere il problema dei cattivi odori che spesso si sentono nelle zone di Chiani, Via Romana, Le Poggiolo e Battifolle. Dopo le innumerevoli segnalazioni raccolte anche sulle pagine social del Comitato, venerdì 17 febbraio alle 21 si terrà un'altra Assemblea dei Cittadini presso il Circolo di Chiani, la seconda dopo quella di novembre scorso, per dare aggiornamenti sulla situazione odori molesti. Il Comitato riporterà tutto ciò che le istituzioni e gli organi di controllo stanno facendo e il lavoro che è in procinto di essere svolto per risolvere la grave problematica. Il disagio è forte, ribadisce il Comitato, alle porte della primavera, i tempi si stringono e il timore di ritrovarsi di nuovo a finestre chiuse aumenta. Tanti ancora gli approfondimenti da fare, ma sia Arpat che Asla stanno collaborando. Il Comitato ci tiene infine a ribadire che a politico si tratta di un gruppo di persone che a cuore la salute e la sicurezza pubblica perché la vita è un diritto di tutti, non un privilegio per pochi.